Ancora una volta Salvatore Giallo porta a convegno i grandi temi del rapporto Italia-Svizzera, tra controlli fiscali, tasse della salute, ristorni, dividendi, sicurezza sociale, rischio di impresa. Lo fa insieme al suo studio di commercialisti, a Varese professionisti e a tanti esperti e relatori riuniti nella sede di Camera di Commercio giovedì 11 aprile alle 16. Parleremo anche di controlli da parte della Guardia di Finanza su società possedute da soggetti italiani società svizzere ovviamente, parleremo di tutte le novità legate ai frontalieri, quindi al nuovo accordo bilaterale, parleremo dei nuovi accordi sullo smart working, parleremo anche della tassa salute. In agenda anche l'aumento degli enti riconosciuti quali comuni di frontiera e le dinamiche che stanno rimettendo in discussione la storica attrattività elvetica, fermarestando la stella polare dei ben più generosi stipendi. Ma qualche impresa sta venendo via perché si sono resi conto dei costi che tecnicamente devono sostenere per una gestione nel cantone. E' altrettanto vero che molti frontalieri, non quelli passati, quelli nuovi, nuovi frontalieri prima di accettare un accordo, un contratto di lavoro vogliono valutare attentamente i benefici e i pro e i contro di questa assunzione.